segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te buonasera e benvenuto sera presidente buonaccini l'ha sentita alessandra todde la sente culturalmente politicamente affine beh sì diciamo che sui diritti civili diritti sociali abbiamo molta visione comune nell'idea di società persino questo ultimo passaggio sull'antifascismo che a me pare clamoroso si debba ancora discutere in questo paese è un elemento non solo condivisibile ma proprio valoriale eppure abbiamo intitolato questa scheda che ora le faccio vedere di linda gianattasio ci eravamo tanto odiati nel senso che quello che non vi siete detti coi 5 stelle è ancora oggi fa impressione e le differenze ci sono allora con lei adesso voglio capire quanto queste differenze sono decisive o quanto sono superabili todde dice io sono una mediatrice no si può mediare su questi punti linda gianattasio il movimento 5 stelle in questo paese è il partito degli ex onesti io col partito di bibbiano non voglio averci nulla a che fare di maio il chierichetto il ministro boschi ha un conflitto grande non come una casa come una banca di battista detto dibba il gallo cedrone non intendo favorire nessuna alleanza o accordo con i 5 stelle c'eravamo tanto odiati è la storia di pd e 5 stelle e oggi dopo aver vinto uniti le amministrative in sardegna si evoca l'alleanza giallorossa anche a livello nazionale ma quali sono i temi che li dividono ancora il pd ha ribadito più volte il sostegno all'ucraina il suo diritto all'autodifesa insieme all'impegno diplomatico per la pace per i 5 stelle la posizione è molto più netta interrompere l'invio di armi a chiev a me mi si rizzano i capelli a vedere il pd bellicista continueremo a lavorare in maniera unitaria ma esigiamo anche il rispetto e non i continui attacchi alle mistificazioni chi voterebbero pd e 5 stelle tra biden e trump secondo conte non ha senso fare il tifo per l'uno o per l'altro uno potrebbe essere più vicino alla sfera progressista e l'altro no però sulla guerra potrebbero invertirsi le cose trump è la negazione di ogni valore progressista commenta il pd con i responsabili esteri provenzano se conte non sa scegliere tra lui e biden vuol dire che non ha risolto il nodo della natura politica del movimento 5 stelle i 5 stelle sono da sempre contrari a termovalorizzatori e inceneritori il pd invece ha sostenuto la costruzione di un nuovo termovalorizzatore a roma diventato il nodo della mancata alleanza pd 5 stelle alle ultime elezioni amministrative nel lazio io non è che posso accettare a nome del movimento 5 stelle compromessi per tenere unite le opposizioni il termovalorizzatore di roma è una scelta che era stata già diciamo presa dall'amministrazione di roma da sempre no tab i 5 stelle che la considerano un'opera inutile storicamente si tab il pd lo scontro si è riacceso pochi mesi fa proprio nel piemonte che andrà al voto tra poco dopo questa foto che non è piaciuta ai 5 stelle raffigura il sindaco di torino lo russo pd con il presidente della regione piemonte cirio centrodestra e il ministro salvini insieme per inaugurare il cantiere del tunnel del tab a chiomonte il segretario regionale pd rossi ha risposto che il movimento 5 stelle ha smesso di essere credibile come forza notab nel 2019 quando il presidente conte diede il via libera la prosecuzione dell'opera insieme a salvini la ratifica del meccanismo europeo di stabilità che finora la premier meloni non ha voluto è una battaglia del pd fin dalla segreteria zingaretti e ora anche per la segretaria schlein va ratificato in parlamento il pd vota sì ma il movimento 5 stelle votano politica estera ambiente economia pd e 5 stelle riusciranno a conciliare le loro posizioni in vista di una più stabile alleanza anche a livello nazionale presente buonacini sembra di sentire alla destra questi sono pronti a tutto pur di fermare noi no anche di mettere insieme l'acqua con l'olio però la destra lei ricorderà quante divisioni aveva negli anni precedenti la coalizione che hanno avuto il merito di unire visto che con questo sistema elettorale hanno una maggioranza parlamentare molto forte che è molto superiore ai reali voti che hanno preso le faccio un esempio a ravenna c'è un sindaco molto stimato da giuseppe conte michele de pascale l'alleanza si votò poco dopo le il voto in emilia romagna c'è una semilitudine con la vittoria di toddi dopo se vuole gliela dico da un punto di vista storico quando vinsi quattro anni fa pochi e poco dopo a bologna a ravenna io non feci l'alleanza con i cinque stelle non la vollerò fare e noi stiamo governando credo anche bene se sto ai sondaggi e l'opinione degli emiliano romagnoli a ravenna a bologna abbiamo fatto l'alleanza con i cinque stelle a ravenna sindacati cgl cisluil tutte le associazioni economiche tutto il consiglio comunale ha chiesto di realizzare il rigassificatore io sono commissario alla realizzazione di un secondo rigassificatore in questo paese perché dovesse arrivare una crisi generale ma non dipenderemo più dal gas di putin vede che quando il governo vuole mi fa commissario a qualcosa e però questo non ha impedito a giuseppe conti a dire che il sindaco di ravenna è un ottimo sindaco le dirò di più però può essere il rigassificatore ciò che servirà solo in futuro no quella è la transizione noi siamo impegnati a realizzare nelle acque ravennati 12 km no senta questa oltre il rigassificatore il più grande parco eolico d'italia forse d'europa e toddy toddy le paleoliche non le vuole no no quelle sono amare siamo tutti d'accordo lì siamo tutti d'accordo assolutamente però sei del partito bellicista sei del partito delle armi quando dice che siamo il partito bellicista giuseppe conte sbaglia sbaglia profondamente peraltro vorrei capire come non si possa essere d'accordo sul fatto che un paese democratico e sovrano non abbia il diritto di difendersi quando viene invaso lui dice bisognava cercare prima la pace bisogna impegnarsi così ma vede l'ha detta bene gianni cooper lo qualche tempo fa se si ferma la russia finisce la guerra se si fermava o si ferma la resistenza ucraina finisce l'ucraina e non ce lo possiamo permettere certo però insieme condividiamo il fatto che si debba cercare un di più di quello che è stato fatto cioè poco di un canale diplomatico che porti a trovare le ragioni speriamo di una pace ma lei non crede che giuseppe conte stia usando in questo momento il pd per tornare a palazzo chigi non lo so a me interessa che si trovino gli accordi sui programmi vede in sardegna è stato possibile fare un'alleanza di un certo tipo sul programma per i sardi e alessandra todde ha fatto bene mentre gli altri parlavano del paese come salvini in particolare quando venne in emilia romagna ci stette stabilmente per due mesi e mezzo in quell'inverno in cui si pensava che l'emilia romagna per la prima volta nella sua storia soccombesse perché vede la similitudine noi venivamo da due anni e mezzo in cui dieci regioni su dieci dieci su dieci erano state stravinte dalla destra compresa sei mesi prima la rossa umbria alessandra todde vince dopo che negli ultimi 12 mesi abbiamo straperso in lombardia nel lazio in molise in freddo venezia giulia provincia autonoma di trento e di bolzano e quindi un fatto positivo quella vittoria pur non dobbiamo esaltarsi però sentito giannini però che dice schlain è quasi ai limiti del gregariato con i cinque stelle no guardi in abruzzo c'è una coalizione come avete detto prima io e l'ischline chiuderemo insieme il giovedì 7 a pescara sullo stesso palco la campagna elettorale del partito democratico perché il giorno dopo l'ultimo giorno di campagna torale io credo che luciano d'amico che è un ottimo candidato faccia bene a chiudere come dire senza con la torde i leader dei partiti e beh ma guardi io quando vissi emilia romagna disse a zingaretti lo ringrazio perché in questo fu molto generoso dissi venite il meno possibile emilia romagna perché noi dobbiamo parlare di emilia romagna non di politica nazionale e io sento che in abruzzo potrebbe succedere qualcosa che fino a poco tempo fa era impensabile come vede c'è civiche compreso italia viva e azione vuol dire che sui programmi e sul candidato hanno ritenuto che sia la scelta migliore però sentito lei ha detto attenti a non scacciare i moderati no invece qui c'è una grossa area di bipolarismo in questo ha ripreso forza no c'è quelli come calenda come renzi sembrano sposizionati in questo momento vengono considerati diciamo inutili guardiamo e fuori causano i numeri che in politica come si tira dentro calenda guardiamo i numeri che in politica servono se in una parte del paese l'alleanza pd e 5 stelle più altre forze civiche o di sinistra o ambientaliste può persino bastare come è stato in sardegna lei pensi che al nord può bastare un'alleanza solo pd 5 stelle le dico una cosa di cui anche voi parlate molto poco nei talk show il nord del paese vede circa 27 milioni di abitanti quasi la metà degli italiani di otto regioni in questo momento e da un po di anni quante ne governano il partito democratico il centrosinistra solo l'emilia romagna dove per alto non siamo alleati 5 stelle si va a votare in piemonte a breve e non c'è un accordo andrà a votare in liguria e in e in veneto il prossimo anno noi abbiamo perso male in tutte le ultime tornate amministrative in grandi regioni del paese dove c'è il cuore produttivo quello più dinamico perché è perché il punto è che se tu pensi di parlare al nord come parli nel resto del paese hai già sbagliato in partenza ed è per questo che dico che noi non possiamo permetterci ma lo dice la storia di questo paese non basta una todde al nord non basta una todde al nord serve che noi mettiamo in campo le migliori forze che si oppongono a questa destra non per essere contro io non ci credo ma servono anche Calenda e Renzi mi scusi assolutamente sì Calenda e Renzi servono io penso proprio di sì loro non ci vogliono stare con Conte guardi io penso che se continueranno a mettersi in un campo terzo come ha detto molto bene Giannini e come è accaduto in Sardegna mi pare che comunque alcune parole immediatamente dopo le elezioni di Calenda lo dicano si condanneranno all'irrilevanza noi non possiamo costringere nessuno a poter stare in una coalizione centrosinistra che voglia essere alternativa a questo paese ma siccome a mio parere torna e tornerà il bipolarismo sempre di più chi non vuole stare in un centrosinistra e vuole metterci in posizione terza è chiaro che diventa con queste leggi elettorali il miglior alleato della destra allora a quel punto bisogna andargli a prendere i voti a casa loro senta il suo collega De Luca sta facendo una battaglia molto forte sulla questione dell'autonomia differenziata no vediamo un attimo sono accadute cose gravissime più gravi dei manganelli contro ragazzi assolutamente indifesi che già un episodio gravissimo ma dieci giorni prima 500 sindaci con le fasce tricolori contrastati buttati per aria aggrediti spintonati ma quale autonomia regionale è evidente che siamo di fronte a un tentativo di ricatto politico non perdete tempo lo vorrei dire ai nostri interlocutori voi vi dovete solo augurare che vincenzo De Luca abbia un infarto fulminante ma se come mi capita godo ancora di buona salute state perdendo tempo toccando ferrovi a me no ma siamo uno noi non accetteremo mai e qui c'è una spaccatura forte anche dentro il suo partito perché invece se ho ben capito voi siete a favore di questa autonomia differenziata no chiariamola io ero sul palco a napoli un po di mesi fa insieme all'isch line a una manifestazione che il partito democratico convocò a cui era presente anche esponenti non solo del pd per dire no all'autonomia differenziata i calderoli che non solo è un pasticcio ma è proprio pericolosa per il paese per lei non c'è data a manifestare con De Luca De Luca ha manifestato credo con i sindaci campani quando ci fu la manifestazione da montecitorio per il partito democratico ero sul palco e lo ricordano tutti ho parlato proprio prima della mia della nostra segretaria tenga conto che la sinistra non può per natura e per la sua storia essere contro l'autonomia le autonomie locali altra cosa è capire cosa può essere l'autonomia differenziata quella che bonaccini sottoscrisse in una preintesa col premier gentiloni all'inizio del 2018 poche settimane prima che il governo gentiloni terminasse la sua esperienza era un'autonomia differenziata che chiedeva solo alcune materie non chiedeva un solo euro perché quando si parlava di residui fiscali da parte di veneto lombardia io dicevo guardate che non li darà nessun governo perché se chiedete di trattenere nove decimi delle tasse voi non chiedete l'autonomia differenziata chiedete la secessione dopodiché non è andato avanti praticamente nulla e tenga conto che l'autonomia differenziata che chiese l'emilia romagna non ha avuto alcun voto contrario in assemblea legislativa da parte dei partiti e io l'ho scritta non condivisa con tutte le parti sociali dopodiché l'autonomia di calderoli va combattuta e cambiata no ma guardi che è un'autonomia differenziata peraltro che non ha nemmeno le risorse per poterla affrontare ma le faccio solo due esempi ma secondo uno solo secondo lei possiamo avere potenzialmente 20 pubbliche istruzioni diverse in questo paese faremo ridere il mondo senta lei è la riformista del partito no chi non le vuole bene dice che lei è ancora un renziano chi invece lo analizza oggettivamente diciamo senza nessuna cattivera dice che lei comunque è un riformista nel campo il partito nel campo infatti si era candidato con una linea diversa da quella di ellish line no più moderata diciamo meno di sinistra potete chiamarci con i nostri cognomi e non con i cognomi con i cognomi degli altri perché credo sia un esercizio che serve veramente no glielo chiedo per questo perché ha provreso sempre di conte ce l'avete quei 34 secondi di renzi su conte e poi tu c'hai i conti che è l'uomo che ha creato più danno economico finanziario ai conti del paese di chiunque altro fate i conti del super bonus 110 per cento e del reddito cittadinanza conte non ha fatto un buco nel debito pubblico conte ha fatto una voragine io penso che era nei tempi del terremoto dell'irpinia che non ci fosse uno spreco di soldi così grave come quello dei 5 stelle guardate che è molto triste quello che sto dicendo è d'accordo? no no ci possono essere opinioni differenti io credo che i toni andrebbero utilizzati in altro modo ma guardi il tema è capire quale prospettiva vogliamo dare al nostro paese come la vogliamo dare nelle regioni o delle città dove vanno al voto tant'è che se io le dico che in Emilia Romagna e in moltissimi comuni per la prima volta staranno insieme forze politiche che vanno da quelli chiamiamoli del terzo polo che non saprei più come chiamarli fino ai 5 stelle vuol dire che poi alla fine quando parli di programma possono cambiare quanto conta in questo la destra? il progetto di paese della destra quanto sta pesando su questa ricomposizione del quadro politico dell'opposizione? lei la ritiene pericolosa questa destra? no io ritengo guardi pericoloso ritengo le risposte che mancano agli italiani lei pensi sulla sanità pubblica le do dei numeri perché spesso anche di questo si parla senza sapere di cosa si parla la manovra che il governo Meloni ha approvato porterà a scendere il rapporto tra spesa pubblica e sanità e PIL del paese che è l'unico che puoi guardare per dare un giudizio su quante risorse le regioni e le comunità hanno a disposizione lo porterà a scendere al 6,1% in due anni e diventeremo fanalino di coda o tra gli ultimi nell'Unione Europea sono queste le cose che contano? sono queste le cose che contano per un motivo vede puoi aver votato Meloni e Salvini finché vuoi ma quando come sta succedendo in tutta Italia compreso in Emilia-Romagna dove siamo sempre al primo posto nelle classifiche per qualità e quantità della cura o dei livelli essenziali di assistenza dati alle persone da ultimo Agenas grazie anche ai privati beh ma da noi lei sa che i privati sono molto poco perché noi difendiamo ecco ad esempio di idea di società privati convenzionati sono pochi, molto pochi circa il 20% di Emilia-Romagna guardi che da noi il pilasto è la sanità pubblica guardi che rimane con noi no però voglio terminare su questo punto tu puoi aver votato chi ti pare ma quando per curare i tuoi figli o i tuoi genitori o te stesso e per avere una prestazione specialistica prima ci volevano due o tre mesi adesso ci vuole più di un anno in alcuni casi sono chiuse addirittura le liste qualche domanda te la fai e io penso ad esempio che le opposizioni tutte debbano fare una battaglia politica nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per difendere la sanità pubblica perché l'idea di società che ho e che abbiamo è quella per la quale chiunque deve essere curato non in base al conto corrente bancario o l'assicurazione privata che ha in tasca ma con un dividito universalistico allora sì e poi la quale è una cosa che si è un'area